Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ManuSport 07 Siamo qui con le pagelle di Sampdoria Gioventus 0-2 Partita che ha visto i bianconeri alla quarta vittoria consecutiva Per quanto riguarda tutte le competizioni Se invece andiamo a vedere solo il campionato è la quinta vittoria in sei partite Dopo comunque le vittorie risicate contro Udinese, Sassuolo, Milan, sconfitta con l'Inter E la vittoria con il Bologna Quarta di fila senza subire reti peraltro Ringrazio il Bonantonio per l'Evix Art Ma noi ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere 3, 2, 1, partiamo subito Vamo ragazzi Per quanto riguarda Scesni ho deciso di dargli un 6 Diciamo il solito 6 politico ragazzi Perché questa partita Scesni non fa praticamente niente Però ci stanno Per quanto riguarda le statistiche vengono aggiornate con le porte inviolate Magari ci dimentichiamo come il fatto che le reti inviolate Vengono fatte se davanti una gran difesa E noi stiamo iniziando a fare reti inviolate Da quando abbiamo Chiellini, Bonucci e Danilo tutti e tre insieme Anche se forse al posto di Bonucci un delict ci starebbe Cioè ragazzi quanto sarebbe bello vedere Chiellini e delict Insieme in difesa Comunque Scesni si prende il suo 6 politico Non voglio esagerare Alla fine è più un senza voto di un 6 ragazzi Bonucci si prende il 6 Imposta, difende Ieri l'unica cosa doveva fare è impostare Perché di difendere Chiellini e Danilo bastavano e avanzavano Comunque al fianco di Chiellini e un altro giocatore Si è un po' ritrovato In questo 2021 ha preso se non erro solamente Insufficienza nelle mie pagelle Perché se andiamo a vedere solo la prima parte di stagione Avrà preso 4-5 insufficienza Per quanto riguarda invece il mese di gennaio Sta andando veramente bene Quindi bravo il vicecapitano Bonucci Almeno questo rimanimento l'ho iniziato bene Molto meglio però il secondo momento di reparto Che si prende un 7,5 ragazzi Non è lui però il man of the match Andiamo a vedere successivamente chi è il man of the match Comunque Chiellini da quando è tornato ha dato solidità alla difesa Ha saltato solamente una partita Quindi mi fa preoccupare Nel senso che contro l'Inter secondo me è al suo posto Ci sarà delitto De Miralle Se non entrambi Quindi ragazzi alla fine Chiellini non può fare troppe partite di fila È meglio tenerla in rosa Perché abbiamo visto da quando c'è Chiellini in rosa Abbiamo iniziato a fare reti inviolate su reti inviolate Quindi ragazzi Sempre meglio tenerci Chiellini al nostro fianco 7,5 per quanto riguarda la partita di ieri Perfetto sia in fase di impostazione che in fase difensiva Strano vedere Chiellini bene in fase di impostazione A Danilo da un 6,5 Anche lui un 6,5 politico Perché da difendere ieri C'era ben poco visto la pericolosità degli avversari E visto anche le condizioni climatiche che non favorevano Magari eventuali contropiedi di Keita Che era il loro uomo più pericoloso Ma soprattutto comunque la nostra solidità difensiva Non ha fatto fare azione agli avversari Questo è anche merito di Danilo Che il 6,5 se lo porta a casa Osa tanto in fase di impostazione Ma ieri ci stava in quanto da difendere Ripeto l'ennesima volta C'era comunque poco Quadrado anche lui Partite dove si difende poco Quadrado non le stecca mai Per l'esempio motivo che io dico sempre ragazzi Quadrado se deve giocare esterno destro Non può fare anche il terzino destro In questo modulo In un ipotetico 4-4-2 di Pirlo In fase di difesa Questo perché ragazzi Perché Quadrado senza Danilo dietro Senza qualcuno che lo copre Perché lui si fa spesso saltare Non è un grandissimo terzino Per quanto riguarda la fase difensiva Però comunque queste partite Non le stecca mai Quadrado Ieri si porta un set a casa Fa il suo ennesimo assist Da quando è tornato Ha fatto tre assist in quattro partite Non ha fatto assist solamente in Coppa Italia Ma solo perché non ha giocato Benissimo Bentancur Per l'ennesima volta Dico che mi ricredo Almeno per questa stagione Su questo giocatore Per lui un 6,5 ragazzi Al fianco di Arthur McKennie È un altro giocatore È chiaro che se lo mettevi al fianco Di Rabiot e Ramsey Non è che ti rendeva tanto Però al fianco di Arthur e McKennie È sicuramente un altro giocatore Rodrigo Bentancur Ora giocherà anche con l'Inter Per poi saltare la Roma Il giallo secondo me non ci stava Però accettiamo la decisione dell'arbitro Che era un giallo che si poteva dare Come non si poteva dare E vabbè Ogni tanto il giallo lo deve prendere Bentancur lo sappiamo Partita ieri comunque Veramente mostruosa dell'uruguaiano 6 invece per McKennie Bene in fase di impostazione Bene in fase difensiva Bene in fase offensiva Si è fatto vedere meno del solito Però comunque ragazzi Il suo 6 quotidiano Se lo porta a casa Anche perché non ha fatto Particolari sbavature E ha dato comunque Il punto di riferimento A centrocampo Cioè lui è una mezzala pure Completa ragazzi In questo 3,5-2 Quindi veramente veramente bene Western McKennie Andando ad analizzare invece Qualche è la prestazione Di Arthur Melo ragazzi Arthur Melo porta a casa Un buon 6,5 Abbiamo trovato il nostro regista Anche se nell'urugua di registra Più o meno Lui si alterna molto Con Bentancur Però ragazzi Sta facendo veramente veramente bene Ha un'intelligenza calcistica Fuori dal normale Non sbaglia un pallone Forse l'unico che ha sbagliato È stato nel primo tempo Ma comunque Sfavorito da un rimpalo Cioè una partita Tu magari Qualche errore Non li fai Al fianco di Bentancur Veramente fa ormai Una coppia di registi Che mi fa impazzire Abbiamo comunque Un bel centrocampo Arthur McKennie E Bentancur C'è da trovare qualche riserva Perché Rabio e Ramsey Siano due E manca il terzo Che magari può essere Fagioli Vedremo come si comporterà Per quanto riguarda Chiesa Li do un 7 È vero che ha fatto il gol Che comunque alla fine Ha deciso la partita Ma è anche vero che ragazzi Si è un po' perso In qualche altra azione fatta Anche perché il gol Sì lui si è fatto trovare pronto Quello è Perché magari qualcuno dice Eh ma l'ha fatto a porta vuota Ragazzi Morata non è che Ha messo in mezzo alla cieca Alla fine Morata Ha trovato Chiesa Quindi insomma Diciamo così Proprio alla cieca no Però calcisticamente Chi ha fatto calcio Capisce cosa voglio dire Con un passaggio alla cieca di Morata Comunque ragazzi Chiesa a sinistra Non rende quanto a destra Questa è la mia opinione Ragazzi Sapete come la penso Chiesa si deve alternare Con quadrato In quella posizione Almeno secondo me Di esterno destro Perché non riesco a trovare Un altro sistema Per farli giocare Poi non lo so Perché poi Se togli Se Chiesa lo metti a destra Poi non sai dove mettere McKennie Magari McKennie a sinistra Ti rende di meno Sinceramente non lo so ragazzi Sta di fatto che Chiesa a sinistra Per me non rende come a destra Come esterno sinistro ragazzi Anche perché poi Ronaldo si sposta al centro E Morata come alla destra Se invece metti Chiesa a destra Morata fa l'attaccante E Ronaldo è alla sinistra La stessa cosa se c'è Di Bala Quindi magari il discorso Viene un po' Esaltato di meno Quindi non lo so Magari con Di Bala Può essere un'altra cosa Questa è la mia opinione ragazzi Quindi Chiesa a sinistra Fa bene Ieri ha fatto pure il gol Però secondo me a destra È la sua posizione naturale Comunque per quanto riguarda Il partito di ieri Si porta a casa un 7 Non ho tanto da dire Anche se viene un po' Scosso Cioè scosso Voglio dire Demotivato magari Dalla presenza Anche di quella fascia Anche di un certo Cristiano Ronaldo O non si vedeva Ronaldo Nell'azione O non si vedeva Chiesa ragazzi Ma comunque un 7 Ripeto Se lo porta a casa tranquillamente Per quanto riguarda Invece i due attaccanti Ragazzi ho deciso di dare Un 6 e mezzo a Morata Non fa gran che ieri Però comunque Viene preso in considerazione Il fatto Cioè il fatto L'assist a Chiesa Comunque Un bell'assist L'ennesimo assist stagionale Praticamente si avvicina A quadrato Perché in totale Gli assist di Morata In stagione sono 8 11 invece quelli di quadrato Quindi veramente Veramente bene Morata Che si è Che si è Riambientato benissimo 13 gol 8 assist per lui finora Ieri comunque Bella partita Da un punto di riferimento In attacco Anche se le maggiori occasioni L'ha avuto il suo collega Di riparto Cristiano Ronaldo Per lui 5 Avrei dovuto dargli 4 Perché si chiama Ronaldo E si è mangiato 3 gol Grandi quanto una casa Ragazzi Molto Molte volte Ha una testardaggine assurda Nell'arrivare al tiro Anche quando non deve tirare Perché per esempio Ieri ha avuto 3-4 occasioni chiare Dove doveva tirare E ha tirato male Oppure l'hanno ripreso Gli avversari Per questo merita un 4 Ragazzi Gli do 5 Per il semplice motivo Che magari ci dimentichiamo Che tutte e due le azioni Dei gol Sono andate da lui ragazzi Alla fine è stato lui A fare il lancio a quadrato È stato lui magari A vedere Morata E non a essere testato A tirare Nell'occasione del gol di Chiesa Quindi insomma ragazzi Un voto in più Gli lo voglio dare Non gli do 4 Quindi gli do 5 7 invece Un superentrato Ramsey Si fa vedere bene Diciamo che Ramsey e Rabiot Possono essere solamente Buone riserve attualmente In questa Juventus Ragazzi Inutile dire Vendiamoli Vendiamoli a gennaio Non li vendi Se mai li vendi a giugno Però per il momento Rabiot e Ramsey Sono comunque due buone riserve Ramsey comunque La mezzala la fa bene Soprattutto se è entrato A partite in corso Possiamo vedere Come è il gol di ieri Se possa essere un armale tale Magari per chiudere Le partite quindi bene Ramsey Che comunque un 7 Almeno per la partita di ieri Da subentrato Solo porta a casa Non era difficile il gol da fare Ma l'importante Come nel gol di Chiesa Era farsi trovare lì Man of the match invece È Andrea Pirlo Ragazzi Andrea Pirlo Che comunque tiene La quarta vittoria di fila Ha trovato il suo centrocampo Ha trovato la sua difesa Ha trovato comunque Una squadra che Che risponde magari Sul campo Ora ci sono 5 partite Difficilissime da affrontare Ovvero Inter Roma Inter il ritorno in Coppa Italia Napoli e Porto Ora vedremo Andrea Pirlo Cosa estrarà fuori dal cilindro Almeno 3 su 5 Le voglio vincere ragazzi Senza magari uscire Da nessuna competizione Quindi Vedremo Con l'augurio Che gli altri due Ovviamente siano pareggi E non sconfitte Attenzione Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace A caso di contrarre un dislike Comment se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscrivete al canale Da Mono Sport 07 è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti